Taranto ha espresso un desiderio, avere un Tarantino vincitore che si è esaudito. Adesso qual è il tuo desiderio per la città di Taranto? Il mio desiderio è che si possa lavorare tutti insieme per un futuro diverso per la nostra città. Perché credo Taranto abbia pagato abbastanza in questi anni. C'è bisogno di una rivoluzione vera e propria. Spero si possa lavorare tutti insieme davvero. Spero lo si possa fare per i nostri cittadini, per i nostri cittadini che non ci sono più, per i nostri operai che non meritano di andare a lavoro tutti i giorni con questo senso, con questo peso che devono portare sulle spalle. Quindi davvero credo sia arrivato il momento di pretendere un futuro diverso per la nostra città, un presente diverso per la nostra città. Perché dobbiamo stare attenti a parlare sempre di futuro. Noi abbiamo bisogno di una soluzione adesso. E credo abbiamo dato abbastanza. Quindi ci vorrebbe un intervento dello Stato importante e definitivo, mi verrebbe da dire. Quindi ringrazio davvero per questo... Ieri pomeriggio l'abbraccio del popolo. Oggi questo momento più istituzionale. Che ne pensi? Questa Taranto ti ha riabbracciato? Sono felice di aver sentito questa unità nella mia città. Perché noi viviamo in una città il cui tessuto sociale è stato distrutto da questa guerra tra poveri a cui ci hanno costretti in questi anni. Quindi sono sicuramente convinto che ci voglia un confronto costante tra le istituzioni e la popolazione. E credo che uniti in qualche modo possiamo pretendere una soluzione. Consegna del riconoscimento assegnato dal Comune a personalità del mondo dell'arte, della cultura, dello sport e della scienza che abbiano onorato la città di Taranto. Con decreto sindacale sentita la giunta comunale, il sindaco Melucci ha deciso di conferirla proprio al cantautore Antonio Diodato per la vittoria della settantesima edizione del Festival di Sanremo.